In questo video stiamo ripercorrendo il viaggio che il 30, a quanto pare la famiglia, compie verso l'aeroporto di Catania. Qui siamo alla diramazione di Messina e ci troviamo adesso nella zona dello stadio. Una volta passata la barriera di tre mestieri c'è il tratto di autostrada che passa dai giardini Naxos che si trova in prossimità di Taormina, subito dopo inizia la provincia di Catania e attraversiamo Fiume Freddo, Acireale, Giarre, questi sono i paesi che ci separano dall'aeroporto di Catania. Anzi, viene prima Giarre e poi Cireale. Dopodiché c'è la barriera di Catania Nord e ancora qualche chilometro si arriverà in prossimità dell'aeroporto. Una segnalazione, ho letto dei commenti l'altro giorno, in cui si dice che lo yoga possa avere risvolti demoniaci. E qualcuno mi ha scritto che la figlia di chi trova il bambino, il 19, fa l'insegnante di yoga. A me sembrano queste cose che non possono stare né in cielo né in terra, anche perché conosco quella persona e so che non ha attinenza con nulla che sia satanico. Qui intanto siamo già nei pressi dell'aeroporto di Catania. Stavo dicendo che poi loro effettivamente facevano delle manifestazioni, dei raduni di yoga sopra la collinetta di Capodorlando che gode di una vista stupenda, lì c'è una chiesetta sconsacrata. Ma ripeto, loro, come del resto anche io, andavano lì per il paesaggio che si gode da quel punto. Non certo perché la chiesetta è sconsacrata o meno. Tra l'altro, una cosa che mi ricordo, un tanti anni fa trovai i resti di animali, anzi di un animale forse, un agnello sinceramente, bruciato, il che mi fece ai tempi pensare a riti esoterici che probabilmente si svolgevano lì in quanto chiesa sconsacrata. Ma chi va lì va per il panorama, come faccio io, e chi organizza yoga, ripeto, lei è ristruttrice di yoga, non so se lo fa ancora, lo fa perché lì si ha un paesaggio incredibile, ci sono da fare 400 scalini circa per arrivarci, quindi insomma si fa sport e lo si fa in un punto che è paradisiaco, anche se magari è un paradiso sconsacrato, ma è sempre paradiso. Questo è l'interno dell'aeroporto di Catania, ripetiamo, Denise il 30 parte da qui. Credo parta all'ora di pranzo, proprio da questo posto. Invece un'annotazione relativa sempre al discorso del tatuaggio del sole mi è stato fatto presente da un'esperta del mestiere che il sole si lega al tarocco numero 19 e il 19 poi è la data del ritrovamento di Gioele.